sentite 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 non il motorino sentite la musica ce lo siamo levati dai coglioni ce lo siamo levati dai coglioni abbiamo esonerato il benzinaio santo cielo grazie agnelli finalmente fai qualcosa l'hai capito l'hai capito ma non prendere inzaghi non prendere inzaghi piuttosto prendi mancini prendi sosa prendi pocettino prendi chi cazzo vuoi ma non prendere inzaghi per piacere non cadere dalla padella nella brace signori ufficiale video flash perché fra poco c'è la diretta su max montagna camus quindi se volete ne parleremo in diretta con gli ospiti con ludovico longhi giulio nicolini però fiuve e tutti voi che verrete in live su max montagna camus sarri è stato esonerato non lo sopportavo adesso lo posso dire non lo sopportavo mi urtava i nervi quando lo vedevo mi dava fastidio fisicamente porca puttana va bene io non lo volevo uno così uno che non ha mai amato la juve uno che faceva le interviste faceva schifo diceva cagate insopportabile non ho sopportato allegro negli ultimi due anni ma allegro almeno ci aveva fatto vincer ci aveva portato in finale qualcosa di buono aveva fatto non eccezionale ma qualcosa di buono questo veramente non lo sopportavo più non lo sopportavo più che bello che bello che bello che bello sì 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 eeeh 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 è